Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui alla palestra Manipo di Ascoli Pisano sono con la mia teletta marmella, ci faremo un allenamento intenso di carne seconda metà, per rispondere, ok, stai bruciata, se lo posso stare un pizzico più avanti, massimo poter, portiamo un testo da lì, ok, più esercizio, portiamo con la lecce, scaldiamo bene i quadricipide e anche l'anticorzio del ginocchio, e poi andremo a fare una seconda pesata e cominciamo, facciamo un po' di serie da 15 colpi, faremo un ramping ad aumentare il peso fino a quando non riusciremo a chiudere le 15, teniamo sempre con attenzione una contrazione massima, ok, vedete com'è, la mia teletta cerca di raggiungere la massima trazione, supo, ritmo sempre con attenzione, frazione, s**chia, con attenzione un po' di serie, con attenzione, s**chia, con attenzione ogni modulo, persi, tue, ritmo di s**chia, personalmente e vol quand'è, Gegen te lo s****a, di approfraggio, Grazie a tutti. 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 Vai. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora Manu. Vai. Grazie a tutti.